Vicenza Calcio, tutti i tifosi diventano pazzi per il bianco-rosso, dove rosso è Renzo, il presidente potenzialmente più grande che arriva paradossalmente nel momento più buio della storia dell'Anee. E allora prendiamo i candidati, dividiamo lo schermo in due parti uguali e sistemiamoli in ordine alfabetico, dalla rosa Rucco. Come giudicate l'intervento di Mr. Diesel? Vedo molto positivamente l'interesse di Renzo Rosso per il Vicenza Calcio, perché è un imprenditore che ha dimostrato, oltre a visione nel mondo degli affari, vera passione sportiva. Io credo che questo serva, perché per il Vicenza serve mettere insieme un grande progetto sportivo, ma anche una solida visione manageriale e di gestione della società. Il 28 maggio ci sarà l'asta dove Renzo Rosso presenterà la sua proposta, quindi noi auspichiamo che questa proposta vada a buon fine, che ci sia quindi una società che abbia un progetto societario e un progetto sportivo importanti per la nostra provincia, perché il Vicenza Calcio è patrimonio non solo di Vicenza, ma direi addirittura di Italia. Bene, tanto entusiasmo! Dal centro-sinistra al centro-destra, tutti felici e contenti per le rose e prospettive del Vicenza Calcio, con un presidente come Renzo Rosso. Ma voi, come sindaci, cosa siete pronti a fare per i colori bianco-rossi? Da sindaco dovremmo riallacciare i rapporti con la società, farla ripartire, agevolarla e magari cominciare a ragionare anche della ristrutturazione dello stadio, perché lo stadio Menti rimarrà lì dov'è. Ne verrà fuori un progetto di uno stadio moderno, ristrutturato sull'esempio di altri stadi privati, come quello di Frosinone o quello della Juventus, in piccolo, dove ci saranno degli spazi sia per le attività sportive che per le attività ricreative e commerciali e soprattutto un'area degli eventi dove poter fare spettacoli aperti a tutta la città di livello internazionale. Se ci sarà richiesta da parte di Rosso di un supporto da parte del Comune, noi siamo più che disponibili a ragionare insieme sullo stadio, sui suoi possibili investimenti e sulla possibilità di dargli, a corredo di questo, delle possibili espansioni, per esempio di tipo commerciale, a servizio dello stadio, che potrebbero essere interessanti a fronte di un investimento da parte sua su valorizzazione dello stadio. Ripeto, il Menti è uno stadio straordinario, uno stadio all'inglese dove il pubblico è molto vicino agli giocatori e quindi è un'arena in cui si può giocare alla grande e si possono ottenere risultati straordinari, quelli che il Vicenza merita. Queste le risposte ai cittadini l'ardua sentenza. Vi ricordiamo che se avete delle domande, se avete delle proposte, delle idee, delle istanze, potete girarle al nostro indirizzo e-mail vicenzachiocciolarreteveneta.it e noi le porteremo ai candidati perché vi diano una risposta e dove richiesto si impegnino solennemente. Insomma, appuntamento alla prossima intervista doppia, sì perché per noi la sfida continua. Grazie. Grazie.